scattano le prime denunce per la manifestazione contro il green pass di sabato scorso a rimini non c'erano le necessarie autorizzazioni seppur rivisto rispetto ai vecchi format il rimini summer pride rinuncia all'evento del 7 agosto troppo complesso organizzare in sicurezza coronavirus casi stabili in emilia romagna ma qualche segnale a cui fare attenzione come la ripresa delle intensive nei vaccini rimini continua ad andare a rilento soprattutto tra i giovani presentate ufficialmente a rimini le prime quattro isole interrate in centro per la raccolta differenziata ne arriveranno altre 10 buonasera ben trovati a questo appuntamento con informazione locale di caro tg ci sono le prime denunce dopo la manifestazione contro il green pass andata in scena in piazza rimini lo scorso sabato il corteo secondo la digos non aveva i permessi necessari manifestazione non autorizzata e questo il motivo che ha portato la digos a identificare e denunciare alcuni dei partecipanti alla protesta di sabato scorso nel centro storico di rimini contro l'obbligo del green pass il corteo partito alle 17 30 in piazza tre martiri conclusosi in piazza cavur dove era stato allestito un palco improvvisato sulla scalinata davanti a palazzo grampi non aveva richiesto e quindi ottenuto le necessarie autorizzazioni oltretutto sono state violate le norme anti contagio come hanno documentato i filmati della polizia i manifestanti circa un migliaio molti dei quali senza mascherina non hanno rispettato il distanziamento creando così assembramenti impossibile ovviamente identificare tutti ecco perché gli uomini della digos che da diversi mesi tengono monitorati con particolare attenzione alcuni gruppi riminesi contro le vaccini e alle disposizioni anti covid stanno cercando di risalire ai promotori del corteo tre al momento le persone identificate che presto verranno denunciate un numero però destinato ad aumentare con il passare delle ore c'è invece chi pur avendo cercato di rientrare nell'ambito delle norme preferisce non rischiare neanche quest'anno si è potuto svolgere a rimini il summer pride la manifestazione di fine giugno a sostegno dei diritti lgbt gli organizzatori avevano allora pensato per il 7 agosto a un evento diverso con un format che potesse essere adeguato anche alla situazione covid ma l'aumento dei contagi la richiesta del green pass hanno fatto desistere gli organizzatori questa mattina alla nostra trasmissione tempo reale il presidente di arcigay rimini marco tonti ci ha spiegato le motivazioni della scelta una decisione presa mal in cuore ma ormai inevitabile la situazione impeggioramento della pandemia e l'obbligo dal 6 agosto del green pass per accedere agli eventi hanno spinto gli organizzatori a rimandare l'appuntamento al 2022 c'erano anche tutta una serie di vincoli naturalmente organizzativi perché c'era un limite anche le persone che potevano stare davanti al palco è una cosa che chiaramente era veniva fuori una cosa che non era al side quindi si è preferito dire ok ne riparliamo l'anno prossimo sì assolutamente le battaglie non si fermano mai ovviamente ma anche per rispetto della situazione del dei pericoli che stanno occorrendo le persone abbiamo fatto questa scelta di responsabilità è stata una scelta difficile naturalmente però ci siamo sentiti di farla grazie anche alla collaborazione della rimini social club potevamo contare su una collaborazione molto forte con anche una addirittura una birra personalizzata avremmo avuto però sono tutte cose che naturalmente sono lì pronte per l'anno prossimo e anzi saranno addirittura molto 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 più potenti resta sostanzialmente stabile rispetto agli ultimi giorni la situazione del coronavirus a rimini e in regione e oggi nel territorio romagnolo c'è un'influenza della variante delta che è appunto arrivata al 92 per cento dei casi questo ha portato al parziale appunto aumento anche negli ultimi giorni ci sono alcuni piccoli segnali come la ripresa delle terapie intensive da tenere sotto attenzione con i 66 nuovi casi di oggi di cui 43 sintomatici rimini torna la provincia con più casi in regione 41 le guarigioni in emilia romagna i nuovi contagi sono 419 ieri 299 su un totale di 21.849 tamponi la percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test è dell'1,9 per cento ieri l'1,2 in regione le nuove guarigioni sono 88 i casi attivi risalgono a 5622 rispetto a ieri 329 in più il 96,7 per cento in isolamento domiciliare due i decessi due anziane donne bolognesi in un solo giorno i pazienti nelle terapie intensive risalgono da 9 a 13 rimini torna a 2 uno in più di ieri 169 i pazienti negli altri reparti covid 7 in più dall'ausla romagna arriva il report sulla settimana 19 e 25 luglio 904 i nuovi casi più che raddoppiati sulla settimana precedente con un tasso di positività del 4,4 per cento anche questo raddoppiato i ricoveri contenuti confermano comunque gli ospedali romagnoli nel livello verde per quanto riguarda la provincia di rimini sono raddoppiati nuovi contagi da 234 a 503 e i casi attivi da 332 a 773 i comuni senza casi attivi scendono da 6 a 5 per i casi ogni 100 mila abitanti su sette giorni il distretto sud quello di riccione resta in testa in romagna con 219 seguito da rimini con 93 e cominciano ad avere percentuali significative nel territorio dell'ausla romagna le vaccinazioni per le fasce più giovani viste come misura preventiva in particolare per poter riaprire le scuole in sicurezza rimini continua però a restare fanalino di coda con percentuali ampiamente sotto la media del territorio dell'ausla romagna secondo i dati aggiornati al 25 luglio la percentuale di chi ha ricevuto almeno una dose nel territorio romagnolo nella fascia 12-19 anni in provincia di rimini è del 27 per cento rispetto al 23 per cento della settimana precedente e rispetto a una media romagnola oggi del 34 nella fascia 20-29 anni ha ricevuto almeno una dose il 42 per cento del target rispetto al 36 di una settimana fa e al 48 per cento della media dell'ausla romagna per quanto riguarda le coperture complete nella fascia 12-19 anni rimini raggiunge l'11 per cento la scorsa settimana il 9 rispetto a una media territoriale del 17 per cento forli e addirittura al 23 per cento più del doppio di rimini nella fascia 20-29 anni rimini al 15 per cento una settimana fa il 12 rispetto a una media territoriale del 19 più contenuto il divario per gli ultraottantenni rimini il 93 per cento ha ricevuto almeno una dose rispetto a una media romagnola del 95 per le coperture complete rimini e all 89 per cento rispetto al 91 della romagna intanto l'agenzia italiana del farmaco ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino spike vax il moderna anche per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni accogliendo pienamente il parere già espresso dall'agenzia europea per i medicinali in emilia romagna a oggi sono state somministrate complessivamente 4 milioni 922 mila dosi di vaccino 2 milioni 218 mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono operative da alcuni giorni le prime isole interrate per la raccolta differenziata in centro storico a rimini questa mattina in via bastioni occidentali la presentazione ufficiale in attesa del completamento del progetto le prime quattro isole interrate per la differenziata in centro storico a rimini sono attive in via bastioni occidentali via bastioni settentrionali via d'azeglio e piazzale gramsci il progetto a regime interesserà 5 mila utenze su tutte le tipologie di rifiuti essendo buona parte del cassonetto sotto la superficie l'ingombro è ridotto il design dei contenitori con effetto corten e farfalle ispirate a tonino guerra è stato concordato con la soprintendenza nel resto del centro storico in attesa delle altre isole dal 3 agosto saranno posizionati contenitori stradali smarti quelli già presenti nelle zone residenziali i cassonetti interrati sono accessibili tramite card o app col cellulare tutte le utenze interessate sono state contattate ma sono in programma altre iniziative di comunicazione un miglioramento anche del punto di conferimento che assume una caratteristica diciamo ancora migliore dal punto di vista del decoro con questo color marrone che un po caratterizza il nostro centro storico per quanto riguarda anche i semplici getta carte o anche infrastrutture che sono state installate attorno ai nostri monumenti è un progetto di cui siamo molto orgogliosi che si amplia con l'arrivo di altri 10 punti di conferimento interrati in tutto il centro storico portando ad un totale di 14 abbiamo mai da qualche tempo cominciato a contattare tutti i cittadini anzi abbiamo già fatto due giri di contatto molte tessere sono già state consegnate in alcuni casi invece non abbiamo ancora trovato nessuna casa e per questo motivo abbiamo pensato di mantenere un presidio presso alcune isole interrate in particolare questa di bastioni occidentali quella di bastioni orientali vicino a porta galliana e quella di piazzale gramsci che saranno dei tutor che oltre a spiegare come funzionano le isole avranno anche la possibilità di consegnare le tessere sono falliti tutti i tentativi per catturare il capriolo che vive negli spazi dell'aeroporto Fellini di Miramare un animale che a rigore di normativa è un potenziale pericolo nelle operazioni di decollo e di atterraggio ora l'animale rischia l'abbattimento ad annunciarlo con disappunto il presidente della provincia Rizziero Santi che si era speso in prima persona per salvare il capriolo non sono serviti i tentativi di avvicinare l'animale per poterlo imprigionare nelle reti o per raggiungerlo con proietti di anestetizzanti che sono sparati ad aria compressa a una distanza massima di 20-30 metri la competenza, spiega Santi, ora è esclusivamente delle autorità di sicurezza aeroportuale continuano gli appuntamenti di Eco di Donna Evolution la rassegna di musica da autrice a San Giuliano Mare domani sera sul palco della piazzetta La Quadra dell'Orto salirà Eleonora Betti, cantautrice toscana col suo lavoro Il Divieto di Sbagliare Il Divieto di Sbagliare questo è il titolo dell'album della cantautrice Eleonora Betti che giovedì 29 luglio si esibirà alle 21.30 a San Giuliano Mare per Eco di Donna Evolution la rassegna organizzata da Caffè dell'Orto, Associazione San Giuliano Mare Musica di Sete e Associazione Sarà con il patrocinio del Comune di Rimini la serata è gratuita ma è richiesta la prenotazione ci saranno le canzoni del mio album Il Divieto di Sbagliare che dall'altra parte raccontano un po' quello che era stato il percorso artistico che ha portato appunto a questa uscita di questo disco e che è fatto di brani in italiano qualche brano in inglese che porto con me insomma anche dalle mie esperienze all'estero e che vogliono tutti quanti un po' esorcizzare ecco questa paura dell'errore che ci portiamo stesso addosso nel nostro quotidiano e in qualche modo ecco attraverso la musica attraverso i testi raccontare un'altra possibilità tra i brani proposti da Eleonora Betti anche Libera una canzone che mette in musica le contraddizioni dell'essere donna già presente nel CD Benvenute realizzato da Chiara Raggi e Musica di Seta ma io ho scritto questa canzone che fa parte dell'album perché avevo conosciuto un bambino di 4-5 anni circa il quale si era presentato e aveva detto con orgoglio di chiamarsi Libero e quindi ho trasformato questo piccolo incontro in una canzone che però ha per protagonista una donna che si chiama Libera anche lei può dire di esserlo sempre e che però appunto nella canzone racconta le contraddizioni in cui invece il mondo la pone per cui lei si chiama Libera ma in realtà quando dice che vuole fare alcune cose in libertà si ritrova un po' messa all'angolo e quindi deve un po' lottare per avere queste libertà E siamo al calcio per il Rimini un nuovo arrivo tra i pali si tratta di Cristian Marietta nato a Cirie in provincia di Torino classe 2002 il portiere Under alto 1,95 x 90 kg è di scuola Alessandria la scorsa stagione Marietta è sceso in campo 32 volte con la maglia della Caronese nel campionato di lettanti siamo in conclusione vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it la pagina Facebook di News Rimini che vi invitiamo a seguire è la nostra piattaforma videoicaroplay.it grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione e l'augurio di una buona serata a tutti voi per averci seguito dalla redazione